Buonasera a tutti, come dicevo, questo incontro che ha durato a massimo di un'ora è dedicato ai nostri cluster, agli incubatori e ai tecnopoli, quindi soggetti che hanno a che fare con aziende ma anche laboratori di ricerca e università. L'idea un po' di tutto il ciclo di incontri che abbiamo fatto le volte precedenti, anche peraltro grazie ad altri interlocutori di 42enne, abbiamo parlato di start-up appunto di corporate piuttosto che di istituzioni americane e l'idea è quella di dare alcune informazioni rispetto a cosa sono e cosa fanno alcuni attori americani e come eventualmente sia questi soggetti intermedi ma anche i soci di questi attori dell'Emilia-Romagna possono un domani relazionarsi, secondo la vostra esperienza naturalmente, perché voi in questo caso racconterete un po' delle università americane, le università americane sono, lo direte meglio voi, un po' tutte mondi a sé stanti, quindi non è che si può fare tutto in un fascio, però magari come appunto si può approcciare una determinata università negli Stati Uniti. Chi vuole cominciare? Paolo, iniziali tu? Come preferisci? Paolo. Ok, ok. Ma dunque, io ho forse tre punti di vista che posso mettere assieme, ci provo almeno, insomma è la prima volta che provo a fare questo esperimento, avendo passato vent'anni della mia vita al Politecnico di Milano, quindi il mio trasferimento negli Stati Uniti è recente, adesso non so Marco da quanto tempo è qua, forse ho un'esperienza più lunga, io sono abbastanza fresco, quindi la mia è un'esperienza per certi versi fresca, da due anni e mezzo sono a Northeastern e posso aggiungere un terzo, che dopo il Politecnico, quindi Northeastern, un terzo, appunto una terza prospettiva può essere quella della società che, di questa iniziativa che citava prima Sara, che è 42enne, una benefit corporation nata proprio per fare un po' da ponte tra l'Italia, le start-up e il sistema innovativo italiano, che c'è molto attivo e le opportunità che ci sono nel sistema di Boston e della costa est, che è un po' meno noto al sistema italiano di quanto non lo sia la costa ovest, quindi diciamo le start-up italiane sono abbastanza familiari, hanno abbastanza familiarità con il contesto di San Francisco, la Silicon Valley per così dire, un po' meno con il contesto di Boston che ha delle potenzialità in realtà molto importanti, soprattutto in certi ambiti, sicuramente medical, biotech, tutto ciò che ruota gravita intorno agli ospedali e ai relativi centri di ricerca, ma anche alcune aree delle nuove tecnologie robotics in particolare, insomma conoscerete forse tutti i video di Boston Dynamics che circolano in rete con questi robot che fanno cose incredibili, insomma la robotica è un altro, qui c'è anche Piaggio Fast Forward che è questo centro di Piaggio creato proprio per sfruttare questa corrente legata alla robotica, quindi sono un po' queste le tre prospettive che metto assieme partendo un po' ovviamente da Northeastern che è la mia prospettiva attuale, però devo dire che alla fine il primo messaggio è che in realtà non mi sembra almeno per i due anni e mezzo che ho passato qui che le tipologie di opportunità siano così diverse da quelle italiane, questo credo che sia un buon punto di partenza nel senso che se già avete magari intrapreso qualche forma di relazione con le università italiane, almeno anche lì parlo per la mia esperienza al Politecnico di Milano, quello che si fa al Politecnico di Milano somiglia molto a quello che si fa qua o viceversa, insomma, quindi le modalità adesso sono riassunte da, ho preso questo come esempio, questo è uno dei college qui di Northeastern, ha tutto tranne che l'ospedale, quindi tutte le discipline che potete immaginare, ingegneria, il mio college art, quindi l'architettura e design, la law school, l'age, insomma c'è tutto tranne gli ospedali, non ha un ospedale quindi non ha una ricerca medica di base, però le modalità sono più o meno riassunte da queste quattro voci e sono in effetti molto simili a quelle che credo si trovino anche nell'università italiana e quindi lo sviluppo delle capacità, delle competenze del proprio personale, quindi si può andare in università per chiedere formazione e sviluppo delle persone, questo a tutti i livelli, quindi partecipando ai corsi da quelli di base fino al dottorato che può essere un dottorato executive e quindi si può far frequentare il dottorato a un impiegato di una start-up o di un'azienda e farlo diciamo combaciare con gli obiettivi di entrambe le parti. La seconda voce è quella del rapporto con gli studenti, quindi qui si chiama cooperative education, è come il tirocinio in Italia, insomma il Politecnico era obbligatorio per esempio per design, quindi tutti gli studenti, i 5.000 studenti di design passavano obbligatoriamente per un tirocinio fatto in azienda e devo dire funzionava molto bene e funziona molto bene anche qua, qui addirittura uno studente può fare nell'arco di 5 anni di studio 3 esperienze di tirocinio, che è una cosa abbastanza diciamo forte, tre esperienze fatte magari in tre realtà diverse, tre aziende o anche altri tipi di organizzazioni diverse, è una cosa molto forte che spesso poi porta all'assunzione, questo è vero sia il Politecnico è vero anche qua, insomma spesso poi queste relazioni si trasformano in… questo devo dire accade spesso soprattutto con le start-up dove c'è proprio bisogno all'inizio di vedere delle persone, un modo molto semplice per testarle è quello di ospitare questi co-ops, come si chiamano qui, o tirocini in Italia e questo banalmente uno degli ultimi tirocini che ho seguito era di uno studente americano qui di North Easton che è andato a fare un tirocinio in una società in Italia, quindi a Milano, un'agenzia di data visualization, insomma è possibile anche farlo non essendo qua, quindi ospitare là studenti che vengono da qua, magari si trovano aree che sono meno disponibili, in Italia o non ci sono e si può ospitare anche studenti. Il terzo è, anche questo è abbastanza tipico ovunque, è la ricerca sponsorizzata, quindi finanziare un contratto di ricerca, qui devo dire c'è un'apertura un po' maggiore a forme di partecipazione diverse da quella diciamo monetaria, insomma in Italia tipicamente almeno io a design, Dipartimento di Design dove ero Politecnico, io facevo principalmente ricerca applicata, cioè con aziende e la forma tipica era che l'azienda pagava un contratto che prevedeva poi degli output di ricerca e qui c'è anche apertura a forme diverse che sono più interessanti per esempio per le start up come anche partecipazione in equity e diciamo forme di co-investimento nella ricerca e questo può essere interessante. La parte diciamo venture e in generale start up è molto più, c'è anche Politecnico, PoliHub, credo sia stato eletto come migliore incubatore di start up in Europa mi sembra, quindi c'è anche lì molto attenzione che altro lo sviluppo di imprenditoria da parte degli studenti e dei docenti, qui c'è anche una forma di compartecipazione essendo l'università privata che può essere interessante. C'è una mano alzata? Sì, non ho capito una cosa, scusate se interrompo, cioè l'università entra nell'equity delle start up dopo che queste sono state già costituite, ho capito bene. È una possibilità che esiste, sì. Ah ok. Cioè l'università fa venture. Fa venture, ok. Questo credo sia facilitato dal fatto che ovviamente essendo una realtà privata, le università pubbliche sono pochissime, ce ne sono anche di eccellenti, però sono poche, quindi io parlo di questa prospettiva ma che poi credo sia molto simile a quella di Stanford o comunque di questa università che insomma purtroppo per fortuna sono private. E l'università lo fa con proprio, come dire, proprio con una logica esclusivamente finanziaria o ha anche delle altre motivazioni? No, tendenzialmente no, diciamo l'obiettivo è un po' quello di più di sviluppo e di crescita, ma diciamo che lo fa in un'ottica sempre di sistema per cui poi, perché diventi una, ovviamente è molto più facile che succeda quando ci sono già delle relazioni, che ne so, quindi o perché appunto direttamente è fondata da qualcuno che viene da qua o perché magari ci lavorano degli studenti dentro o dei faculty hanno delle relazioni con quella startup di altro tipo, cioè anche questo è molto più aperto come sistema rispetto a quell'italiano, quindi per un docente è normale avere una startup o lavorare per una startup, cioè un certo tempo della settimana tu lo puoi comunque dedicare a questo tipo di attività, cosa che in Italia non è possibile, quindi si creano delle relazioni che poi sfociano i meccanismi più flessibili anche di partecipazione, diciamo è difficile che nasca da zero, cioè che non c'è nessuna relazione per cui poi, però poi il ruolo che un docente può avere è anche quello di avvicinare certe startup all'università e poi di creare delle sinergie, questa è un'attività che, ecco un po', questo Politecnico per esempio non c'è, ma magari per ora, poi non lo so, però questi meccanismi sono un po' più difficili. L'ultimo punto è interessante perché è un po' diverso da, almeno questa è una cosa che non avevo, forse c'è anche adesso il Politecnico, l'advisory board, quindi ogni dipartimento ha un advisory board costituito da persone che vengono dalle aziende di qualsiasi dimensione, livello, sì tendenzialmente magari già con una certa storia, forse non startup, però magari appunto su certe aree più nuove, più dinamiche, c'è spazio anche per, cioè a parte che poi startup spesso sono fondate da persone che hanno già un'esperienza molto lunga nel campo, quindi la possibilità di entrare in questi advisory board come azienda e partecipare, in realtà vengono consultati molto e attivati molto per diciamo anche proprio aiutare nella definizione dei programmi di studio che sono abbastanza flessibili, anche qua non avendo i vincoli ministeriali, attivare un nuovo programma se c'è un motivo, se c'è addirittura anche un'azienda che magari ci mettere le risorse è molto facile, ci sono formati, diciamo modalità di formazione molto flessibili, corsi pop up, li chiamano addirittura che magari one shot, si fanno solo un'estate e magari lì si fa solo per partecipanti definiti che magari vengono dall'azienda, sono modalità di formazione molto flessibili. Un'altra forma è, questo per esempio questo istituto non esisteva quando sono arrivato due anni e mezzo fa, adesso esiste, era anche piuttosto florido, ed è stato costituito insieme alle aziende, startup e non, di un'area geografica definita, quindi diciamo nasce da un investimento di una famiglia che voleva che Portland e Maine diventasse un po' un hub dell'innovazione nella costa est, quindi ci ha messo la dotazione iniziale, dopodiché però immediatamente sono state attivate delle relazioni con delle aziende, quindi c'è un corpus, credo che siano una ventina di funding partners di questo istituto di ricerca che è dedicato principalmente all'intelligenza artificiale e alla biotech, che sono entrati da subito nel circuito, sono nominati come funding partners, sono aziende di varie dimensioni, che ovviamente poi hanno delle relazioni privilegiate, sia per l'accesso agli studenti, per i tirocini cui parlavo, la ricerca, eccetera, quindi funding partners di istituti specifici o centri di ricerca specifici. Poi c'è tutta la parte di studenti, come dicevo, è molto nutrita, insomma qui il co-op non solo lo fanno tutti, ma lo fanno più volte durante i cinque anni, quindi c'è un via vai di studenti verso le start-up, le imprese, le aziende di qualsiasi dimensione, è molto intenso e spesso sono start-up, quindi devo dire che la maggior parte, ma credo forse tutte qua, quindi questa è una cosa che un po' ho notato anche attraverso 42N, cioè alla fine per certe cose bisogna essere qua, quindi avere una posizione negli Stati Uniti, ovunque si incorpori la società, la start-up, alla fine è molto molto utile a un certo punto del percorso, quindi soprattutto per sfruttare certe opportunità. Possono essere anche delle forme, questa che si chiama experiential network, per esempio è una forma di progettualità fatta con i studenti molto mirati, sono un formato breve, sono poche settimane in cui in realtà lo studente invece non va in azienda, l'azienda viene qua e si fa un'esperienza assieme gestita in parte anche dall'università, proprio mirata sulle esigenze dell'azienda, diciamo una forma evoluta, un tirocinio 2.0 fatto su esigenze specifiche dell'azienda con gli studenti, è come una sorta di mini progetto di ricerca o di workshop fatto con gli studenti e l'azienda sponsorizzato, in questo caso l'azienda non paga in realtà, perché contando come supporto l'attività degli studenti, ecco poi non sempre tutto questo necessariamente implica esborso di risorse economiche. Chiudo con questa, poi lascio parola a Marco e ad altri, ovviamente poi c'è tutta la parte di incubazione, quindi la generazione di start-up dentro l'università, l'incubatore qui si chiama Idea, insomma facilita in tutti i modi, sia i studenti che i docenti che avessero, qui fanno il giro dei dipartimenti, dicono ma non è che è un'idea, una buona cosa potrebbe essere anche coltivare delle relazioni nel proprio ambito con i docenti delle università, perché poi magari insieme si riescono a creare delle cose che fatte magari da sola, dalla start-up da sola può essere un po' più difficile, proprio perché tendenzialmente i docenti hanno una libertà di manovra e di opportunità non banali, almeno un aspetto un po' più ampio di quello che conoscevo prima. Questa è una panoramica, poi se avete, ho anche tre esempi di tre progetti che sto facendo ma non c'è tempo, poi nel caso li posso raccontare più nello specifico, sono diversi, il primo è un progetto che dura da ormai quasi due anni con un'azienda italiana, che però non è una start-up evidentemente come si legge dal nome, il secondo è un progetto che è nato nell'ambito di quel centro di ricerca in Maine che dicevo uno dei funding partner ha chiesto all'istituto, un certo tipo di ricerca che poi l'istituto ha chiesto a noi, quindi di fatto la mia unità di ricerca è stata pagata dall'istituto che probabilmente poi sarà stato pagata dalla società e l'ultimo è un progetto invece per cultura sul design dentro un'azienda con un'operazione più di, non è proprio un progetto di ricerca, di literacy sul design per l'innovazione dentro un'azienda che è sostanzialmente un retailer supermercato per dirla. Ah no, qui in quel caso lì è il contrario, c'è l'azienda, la start-up che arriva e che ha un bisogno e viene qua, non c'è un meccanismo di scouting o di ricerca di quell'opportunità, quello lo fanno più, tipo il Roo Institute che in un'area geografica specifica fa più quell'operazione di networking è locale, però le start-up che non fanno parte del sistema locale o che sono loro ad arrivare a chiedere una certa cosa, quindi non c'è un meccanismo contrario di ricerca e scouting, almeno che io sappia. Ok, grazie, quindi sono loro che vengono a cercare voi per… ok, grazie mille. In quel caso lì dei corsi specifici dedicati sì, nel caso si fa quello, diciamo, l'andare a cercare le aziende, lo si fa, diciamo, un po' questo lo fanno proattivamente tutti i gruppi di ricerca nel momento in cui hai, insomma, obiettivi di ricerca di medio-lungo periodo un po' più sostanzioso e tipicamente, in quel caso, insomma, non le start-up, direi. Perfetto, allora, mio nome è Marco Pavone, come appunto diceva Sara, io sono dagli Stati Uniti da circa 15 anni, mi sono trasferito a Boston nel 2006 dove ho fatto un dottorato di ricerca all'MIT, poi dopo il dottorato di ricerca ho lavorato per due anni alla NASA in un centro che si chiama Jet Propulsion Lab, che si occupa dell'esplorazione tramite sistemi robotici del sistema solare e dal 2012 sono professore a Stanford, dove mi occupo di intelligenza artificiale e sistemi robotici e ho avuto anche varie esperienze imprenditoriali. Chiaramente sono stati scritti numerosissimi libri sul perché la Silicon Valley è un ecosistema così di successo da un punto di vista dell'innovazione e non voglio certo fare il riassunto di tutti quei libri. Quello che invece voglio fare nei prossimi 5-10 minuti in questa presentazione è dare un'esperienza un po' più personale dell'ecosistema della Silicon Valley attraverso la mia prospettiva di professore universitario e in particolare dare un'idea di come il mondo accademico negli Stati Uniti e in particolare a Stanford è uno degli elementi cardine per l'ecosistema imprenditoriale. Aggiungo che Stanford è privata, ma la California in realtà ha anche una rete di università pubbliche ottima, la cosetta UC, che include UC Berkeley, UCLA, UC Santa Barbara. Quindi in California in particolare c'è una buona consistenza fra università private e università pubbliche di successo. Stanford, come dicevo, è un'università privata che è abbastanza piccola. Se si guarda nel numero di studenti, ha circa 6.000 studenti undergraduate, quindi quelli che fanno una cosiddetta triennale, che negli Stati Uniti è una quadriennale, e circa 9.000 studenti graduate, quindi studenti che fanno un master, quindi la cosiddetta biennale in Italia, oppure il dottorato di ricerca. Quindi comparati con i numeri italiani in università molto piccola. Ma ha un budget di ricerca molto elevato, su circa 2 miliardi di dollari l'anno. Non vado attraverso tutte le statistiche su questa slide, secondo me una delle statistiche o dei punti più interessanti è che uno studio abbastanza recente ha trovato che gli allumni, quindi gli ex alunni dell'Università di Stanford e i professori dell'Università di Stanford, nel loro insieme hanno creato circa 40.000 aziende, da quando Stanford è nata, che se dovesse essere messi insieme in una nazione indipendente, costituirebbero la decima economia al mondo. Quindi giusto per dare un impatto, un'idea dell'impatto di Stanford che è veramente stupefacente. A Stanford dirigo il laboratorio dei sistemi autonomi, il cui obiettivo è quello di sviluppare tecniche di intelligenza artificiale e di decision making per rendere i sistemi, soprattutto sistemi mobili come auto senza conducente o aerei senza pilota, in grado di compiere decisioni per conto loro. E in particolare la missione del mio laboratorio è quello di facilitare la trasformazione del mondo dell'automazione, in cui i robot sostanzialmente hanno compiti molto ripetitivi e non ci sono sorprese durante le loro operazioni, al mondo dell'autonomia, in cui ad esempio nel caso di un'auto senza conducente un sistema molto spesso si trova a dover decidere cosa fare in una situazione che non era stata prevista in fase di disegno e quindi richiede ragionamento da parte del sistema robotico. Quindi è sostanzialmente un cambio di paradigma notevole. Ed in particolare a Stanford sono anche codirettore di un centro che si chiama Center for Automotive Research a Stanford, il cui obiettivo è quello di mettere a contatto il mondo accademico, in particolare la ricerca a Stanford nel campo dei sistemi autonomi, con tutto il tessuto aziendale della Silicon Valley, abbiamo circa un 20-25 partner industriali, vedete vari loghi in questa slide. In questo centro ci occupiamo di vari aspetti legati ai veicoli autonomi, in particolare alle auto senza conducente, dalla parte di controllo del veicolo, alla parte di decision making, alla parte di percezione dell'ambiente, alla parte di verifica, validazione e così via. Abbiamo anche varie piattaforme che utilizziamo per test su strada. Sono sicuro che molti di voi siete già a conoscenza di quanto l'ecosistema della mobilità e dell'autosenza conducente è cresciuto in maniera esponenziale nella Silicon Valley. Giusto per darvi un'idea, vi mostro alcune slide in cui mostro la progressione del numero di start-up che sono nate su questo argomento negli ultimi 6-7 anni nella Silicon Valley. Questa è una mappa della Silicon Valley, potete vedere nella parte in alto a destra la San Francisco Bay, in basso a sinistra c'è la penisola, sulla punta della penisola che non si vede in questo slide c'è San Francisco e in mezzo c'è la città di Palo Alto, dove appunto si trova a Stanford e dove abito. Nel 2014 queste sono le aziende che avevano centri di ricerca e sviluppo nella Silicon Valley focalizzate sul settore dell'automotive. Un paio di anni dopo l'ecosistema è molto più ricco, ci sono varie start-up come ad esempio anche Uber, Lyft, Tesla e così via. Ed allora la crescita è stata quasi esponenziale, quasi di mese in mese c'erano nuove start-ups o nuove anche grandi aziende che investivano con centri di ricerca nella Silicon Valley nel mondo automotive. E quello che è molto interessante di queste slides è, a parte diciamo il numero elevatissimo di aziende, è anche la loro diversità. Si va da traditional OEMs, come ad esempio Mercedes o BMW, a start-ups, a suppliers, a aziende che si occupano più di mobilità, come ad esempio Uber, Lyft, Scoop e così via. La cosa importante è che le tecnologie di base nel mondo, diciamo, di questi nuovi sistemi di mobilità sono state sviluppate all'interno del mondo universitario. In particolare negli Stati Uniti una competizione sponsorizzata da un'azienda governativa che si chiama DARPA, nel 2005, che si è chiamata DARPA Grand Challenge, ha dato l'impulso per lo sviluppo dell'auto senza conducente e da qui è partito poi questo nuovo paradigma dei nuovi sistemi di mobilità, in cui certo c'è l'auto senza conducente, ma non è la solo tecnologia. C'è chiaramente anche il powertrain elettrico, l'idea di mobilità condivisa e così via. Questo però, diciamo, generare nuove idee è solamente uno dei vari compiti che il mondo accademico ha nell'ecosistema dell'innovazione, ma ce ne sono vari altri e questo è appunto quello su cui mi voglio focalizzare nella seconda parte della mia presentazione. Un compito che anche Paolo ha menzionato per quanto riguarda i ricercatori, in particolare professori universitari, è quello di fare da advising a nuove start-ups. E durante la mia carriera, circa 10 anni appunto a Stanford, ho fatto advising per varie start-ups, alcune piccole, alcune più grandi, come ad esempio Zooks, che è stata recentemente venduta ad Amazon per circa un miliardo di dollari. Un altro, diciamo, ruolo che tipicamente professori universitari hanno è quello di essere consulenti o partner per venture capitalist. Quindi ci sono varie aziende che fanno venture capital. Tipicamente si appoggiano a ricercatori, in particolare a ricercatori universitari, per fare la cosiddetta due diligence delle nuove idee. Alcune idee sono ottime, altre idee sono terribili, hanno bisogno di esperti che effettivamente dicono quali sono le idee più promettenti. E io, diciamo, ho anche svolto abbastanza il ruolo di VC partner, consigliando investimenti in varie aziende, inclusa una che si chiama Locomation, che si occupa sostanzialmente di camion autonomi, che sta avendo discreto successo. Un altro ruolo appunto è quello di farsi l'onere, farsi carico del trasferimento tecnologico. Quindi una volta che un'idea è abbastanza matura, creare una startup. In questo contesto, con un mio collega dell'Università di Stanford, circa 3-4 anni fa abbiamo deciso di creare una startup. La cosa interessante è che siamo stati acquisiti prima ancora di essere incorporati e quindi per un paio di anni ho lavorato un giorno a settimana all'interno di questa startup che si chiama Lacuna, che si occupa sostanzialmente di sviluppare sistemi digitali per coordinare il traffico all'interno della città, di una città, soprattutto in un contesto in cui ci sono nuovi sistemi di mobilità, come ad esempio sistemi di micromobilità, scooter elettrici, oppure sistemi di mobilità condivisa e così via. E questa startup oppure sta avendo abbastanza successo appena ha avuto un round series A di funding che è su circa 15 milioni di dollari. Quindi questo è un'altra via maestra per favorire il trasferimento tecnologico. Un'altra prospettiva abbastanza comune negli Stati Uniti, non so quanto sia comune in Italia, che attualmente è quello che sto facendo ora, è lavorare per grandi aziende tecnologiche per sostanzialmente mettere su e coordinare ricerca e sviluppo all'interno di aziende di grandi dimensioni. E quindi ho lasciato queste startup Lacuna e attualmente sono in aspettativa parziale da Stanford e lavoro quattro giorni a settimana, quindi l'80% del mio tempo, a NVIDIA dove dirigo tutta la parte di ricerca teorica applicata nel contesto di sistemi autonomi. NVIDIA è un'azienda sostanzialmente di sistemi conduttori, è nata come azienda che ha introdotto il concetto di GPU, di calcolo parallelo, ma da allora, siccome la GPU, che è un tipo di computer particolare, è il computer principale per sviluppare tecniche di intelligenza artificiale, in questo momento si sta riposizionando come azienda di intelligenza artificiale e una delle applicazioni principali dell'intelligenza artificiale è appunto il veicolo autonomo, l'auto senza conducente, e quindi sto mettendo su proprio tutta la parte di ricerca legata all'auto senza conducente. Quindi questo è un altro ruolo che i professori universitari hanno negli Stati Uniti per certi versi facilitare il trasferimento tecnologico. Ci sono molti altri ruoli, alcuni dei quali sono anche stati menzionati da Paolo. Un altro ruolo che a me è piaciuto molto, soprattutto durante la mia prima parte di carriera a Stanford, è stato quello di coordinare gruppi di studenti verso attività imprenditoriali, in particolare nel mio contesto, nel settore aerospaziale. E quindi ho messo su un gruppo di studenti che adesso ha circa 300 membri, che ha dato luogo a varie start-ups nel contesto aerospaziale, ad esempio nel contesto di palloni stratosferici per previsioni meteorologiche molto raffinate. Quindi il punto è che l'università ha un ruolo centrale nell'ecosistema dell'innovazione. Il ruolo più classico è chiaramente quello di generare nuove idee e di fare il training della workforce, ma ce ne sono molto altri. Per esempio essere un terreno neutro per facilitare lo scambio di idee, dare advice alle nuove start-up, quindi fare, insomma, advisor su quelle start-up, contribuire direttamente al trasferimento tecnologico tramite la... tramite, diciamo, dar vita a nuove start-ups, e più o meno quasi tutti i professori di ingegneria a Stanford nel corso della loro carriera danno vita a qualche start-up. e l'università è molto... facilita molto questo percorso, non tanto per quanto riguarda l'aspetto di investimento, ma quanto per dare ai professori universitari abbastanza tempo per dedicarsi anche alla parte di... alla parte imprenditoriale. Guidare la parte di ricerca in organizzazioni grandi, come ad esempio Invidia, Amazon, Google e così via, e creare una cultura di innovazione nel contesto appunto degli studenti tramite gruppi di studenti dedicati proprio ad attività imprenditoriale. Chiaramente bisogna anche stare un po' attenti nel non sbilanciarsi troppo sulla dimensione imprenditoriale perché c'è il rischio poi di appiattire la ricerca su una ricerca troppo applicata. Quindi è sempre importante mantenere un buon bilanciamento fra ricerca fondamentale e ricerca applicata. La parte di intellectual property tipicamente è una parte molto dedicata. C'è anche una parte di conflitto di interessi. Quindi diciamo, il punto è che bisogna stare attenti a molti aspetti in modo che effettivamente questa commissione fra mondo accademico e mondo imprenditoriale sia di successo piuttosto che una sorgente di problemi. Detto questo finisco qui e non so se ci sono domande. L'advisory board è sostanzialmente partecipazione da parte di aziende di qualsiasi dimensione nella costruzione dei programmi e delle attività dell'università. Quindi ogni dipartimento ha il suo advisory board che è composto da persone che vengono dalle aziende. Insieme si fa un po' strategia per garantire ovviamente che poi ci sia allineamento tra programmazione didattica e ricerca e quello che le aziende serve. Quindi questo è l'advisory board, potrebbe essere un buon modo per entrare in contatto. Non so se è possibile che le aziende devono per forza essere americane. Questo potrebbe essere un vincolo, ma non ho idea da esplorare. La seconda cosa, global co-op, dice semplicemente il fatto che questa cosa dei co-ops, che sono molto simili ai tirocini, se non per il fatto che poi sono più frequenti di quanto non lo sia il tirocino in Italia, è obbligatori sempre. È globale, quindi poi in realtà, come dicevo prima, può essere che uno studente americano qui venga a fare il tirocino in una startup vostra. Questo tecnicamente è possibilissimo, anzi è auspicato qui. Mi piace molto l'idea che si facciano, ci sono corsi che vengono organizzati all'estero dai docenti e sistematicamente, almeno a design, abbiamo questi dialogues che si chiamano così e sono fatti tutti in altri contesti geografici. Quindi i studenti vanno là e fanno le esperienze. Non c'è bisogno necessariamente di avere un partner universitario, cioè può essere il docente che porta gli studenti in un altro contesto e magari anche insieme a un'azienda sviluppare un programma, un corso specifico lì. Tipicamente lo si fa in estate, perché insomma richiede poi una programmazione un po' ad hoc. Di solito il contesto fa parte del progetto, però mi viene in mente per esempio parlando di Modena e dei distretti, che in alcuni casi il contesto può veramente aver senso e quindi per gli studenti fare un'esperienza progettuale di ricerca lì. Questo può essere organizzato come un corso, quindi credo che poi c'è solamente da gestire la questione dello spostamento degli studenti, che sono tipicamente pochi. Un corso qua può essere fatto anche da dieci studenti, nove, insomma mi è capitato. L'iniziativa viene dal docente, cioè tu decidi che per il tuo gruppo di studenti è interessante fare l'esperienza. Propongo alla college di fare un corso io, poi dopo gli studenti si iscrivono di solito a queste cose, applicano, però sono io che dico, vabbè, quindi l'iniziativa del docente, terza cosa sul... cos'era il... Est e ovest, cioè la differenza... Sì, come dicevo sempre, credo che sia, almeno lo dicevo per la mia percezione, dopo un po' di tempo qua e col lavoro di 42 anni, che semplicemente sia meno nota, insomma quando si parla di innovazione insomma si conoscono, diciamo credo abbastanza tutte le cose che citava Marco, la Silicon Valley è un po' un brand a sé, insomma. Qui si conoscono magari i brand singoli delle università, tipo appunto la MIT e Harvard, che sono sicuramente i due brand più forti. Quello che meno si conosce è l'ecosistema, sia in termini di università, sia a Boston è noto che tra Boston e Cambridge ci sono, insomma, 30 università tra le più importanti dentro cui ci sono... però quello che si conosce meno è il tessuto imprenditoriale, non è nota come un posto dove ci sono le start-up, invece ce ne sono tantissime, c'è molto venture capital e c'è, diciamo, molta dinamicità, soprattutto in certi settori, per biotech, ricerca oncologica, pharma, in generale è incredibile la quantità di risorse e opportunità, ma anche altri, appunto, meccanica, robotica, design è molto presente anche qua, insomma, diciamo sì, per rispondere credo che sia semplicemente meno nota e per questo poi anche che è stata creata con l'iniziativa di 42enne. Di là ce ne sono tantissime simili, molte di più, qui non ce n'era neanche una, per quello che sappiamo. Sì, beh, innanzitutto diciamo Stanford è abbastanza decentralizzata, nel senso che non c'è coordinazione a livello della scuola o dell'università su quali debbono essere le attività imprenditoriali e cosa si debba fare. Quello che Stanford fa è facilitare l'attività imprenditoriale, ma questo è comune a quasi tutte le università americane, dando sostanzialmente del tempo ai professori universitari per dedicarsi all'attività imprenditoriale. Praticamente il contratto di un professor universitario a Stanford, o penso anche nel caso di Paolo, ma è abbastanza comune alle università americane, è per quattro giorni a settimana, quindi un giorno a settimana il professor universitario può svolgere attività private, chiaramente assicurandosi che tutte le altre attività legate al mondo universitario non ne risentano, quindi comunque i corsi devono essere insegnati, comunque uno deve fare advising ai propri studenti. Però un giorno a settimana il professor universitario si può dedicare ad attività privata e direi che io ad esempio negli ultimi tre, quattro anni un giorno a settimana mi sono dedicato ad attività privata. Un giorno a settimana è sufficiente se si vuole ad esempio fare consulenza, se si vuole fare advising per una startup, se si vuole dare la direzione tecnologica per una startup, praticamente un giorno a settimana è sufficiente. Nel momento in cui si vuole avere un coinvolgimento diciamo più spinto e soprattutto nel momento in cui il professore ha dipendenti che fanno il cosiddetto reporting al professore, per evitare conflitti di interesse da una parte e per evitare anche che insomma il professore poi non abbia abbastanza tempo per dedicarsi al mondo universitario, a quel punto si può chiedere un'aspettativa. Negli Stati Uniti, o almeno a Stanford, un professore ha diritto a un'aspettativa di due anni ogni sette anni di servizio. Quindi in questo momento sono in un'aspettativa di due anni che è cominciata a febbraio del 2021 a NVIDIA, dove lavoro 80% NVIDIA, quindi ho cambiato, quattro giorni a settimana NVIDIA e un giorno a settimana a Stanford. Quindi sostanzialmente non insegno, non ho alcun tipo di incarico diciamo burocratico all'interno di Stanford. L'unica cosa che faccio è continuare a fare l'advisor per i miei studenti perché chiaramente non li posso lasciare da soli. Tra due anni però dovrò tornare a Stanford e su questo Stanford è abbastanza draconiana. Se non si ritorna entro due anni si perde il posto sostanzialmente e ci sono stati vari professori che hanno deciso, il posto significa perdere la tenure, cioè il contratto a tempo interminato che le università americane hanno. Ci sono stati vari professori che hanno deciso dopo due anni di non tornare, quindi sostanzialmente di perdere il loro posto e continuare diciamo la loro avventura imprenditoriale. Per quanto riguarda la parte di IP, tutto quello che viene sviluppato nel mio ruolo di professore di Stanford appartiene a Stanford. Quindi Stanford può, se vuole, decidere di darmi una royalty free license se voglio fare una startup su quell'argomento. Sostanzialmente la regola è chiara. Tutto quello che ho sviluppato nel mio ruolo di professore universitario di Stanford appartiene a Stanford. Nel momento in cui io faccio attività privata, tutto quello che sviluppo durante la mia attività privata appartiene a me o all'azienda per cui lavoro. Chiaramente c'è un aspetto di fiducia. Uno in principio potrebbe trassare. Il sistema Stanford si basa molto sulla fiducia. Devo dire che non sono mai venuto a conoscenza, almeno nei miei dieci anni di Stanford, di contenziosi fra l'università e un ricercatore per quanto riguarda l'aspetto di IP. Non so se Stanford faccia controlli. Chiaramente se una startup diventa di successo è abbastanza semplice vedere se effettivamente quell'idea è stata originata a Stanford oppure no. Però è un sistema sostanzialmente basato sulla fiducia che almeno nel contesto di Stanford sembra funzionare abbastanza bene. Non posso che confermare praticamente tutto quello che ha detto Marco, sempre per la mia esperienza di quasi tre anni qui. È più o meno tutto uguale, quindi sia la tipologia di contratto, sia fino alla fine la questione della fiducia. Alla fine ogni anno tu scrivi questo form del conflitto di interessi, lo dici tu e così, insomma, questo è giusto per Ecco sì, questa è una cosa importante. Ogni anno anche a Stanford io devo scrivere in un form, fare un resoconto di tutte le mie attività private, cioè tutto quello che ad esempio ho fatto nel mio giorno di consulenza oppure durante la mia aspettativa e se in una di queste attività private lavoro su un argomento che è vicino al mio argomento di ricerca, devo spiegare come i due argomenti sono distinti o viceversa se invece i due argomenti sono molto vicini e in quel caso devo fare la cosiddetta disclosure dell'EP in un ufficio che si chiama Stanford Offers for Technology Licensing. Ma alla fine della fiera comunque è basato sulla fiducia perché chiaramente potrei nella mia disclosure non nascondere qualche cosa. Devo dire appunto che non sono a conoscenza, probabilmente ci sono stati i casi di persone che hanno cercato di fare furbi, ma non a livello sistemico e non a livello tale da creare problemi. Sì, ma questo è importante, è cruciale, insomma, poi si possono negoziare delle forme particolari come diceva anche Marco. Ecco, questa è una cosa, io adesso poi tra un po' devo purtroppo anche scollegarmi, però una cosa che secondo me è importante è la flessibilità di cui anche Marco parlava, in effetti c'è, praticamente alla fine il rapporto è quasi uno a uno, nel senso che ogni docente di fatto negozia una serie di cose con l'università, insomma, a partire dallo stipendio fino alle modalità con cui gestire le proprie attività, insomma, c'è molta flessibilità, quindi per questo ribadisco una cosa che dicevo prima, secondo me è un consiglio, una volta che ci fosse interesse, è quello di individuare qualcuno in università, può essere un docente per esempio, cioè se vi interessa una certa area, quindi una volta capito qual è il dominio dell'ambito di applicazione alla start-up, cercare qualcuno, perché poi essendo, come diceva anche Marco, tutto basato sulla fiducia, molto basato sulla fiducia, poi avere un partner dentro e magari trovare delle modalità insieme per fare delle cose aiuta, perché poi appunto magari è già qualcuno che la fiducia già ce l'ha, poi diciamo l'università comunque fa in modo sempre il più possibile di farti, diciamo, lasciare la proprietà dentro, ci sono dei fondi per esempio che noi abbiamo per sviluppare dei prototipi, prototipare delle idee, però per farlo ovviamente deve essere, prima intanto devi prima depositare la tua idea in università e poi puoi accedere ai fondi per prototiparle, quindi la logica è quella lì, quindi tutto quello che viene sviluppato qui dentro è dell'università, dopodiché si possono negoziare delle forme di gestione, di condivisione di questa conoscenza in modo che poi possa essere sfruttata. Alla fine l'obiettivo di sfruttarla c'è, alla fine questo è molto chiaro, quanto più per la conoscenza prodotta qui viene sfruttata fuori, tanto meglio è per l'università stessa, quindi sia perché poi gli studenti magari ci vanno a lavorare in quelle realtà, quello è fondamentale, ma appunto un po' questo è chiaro anche in alcune università in Italia. Un aspetto collegato all'EP e quindi come monetizzare sostanzialmente la ricerca che viene ha fatto all'interno di Stanford è che a Stanford, ma così come in quasi tutte le università americane c'è una cultura del cosiddetto give back, quindi se uno ha una startup di successo basata non direttamente su un'idea originata a Stanford, quindi Stanford non ha un IP, però basata sul fatto che quel professore universitario o quello studente ha beneficiato di Stanford perché sostanzialmente ha vissuto a Stanford una parte della sua vita, se quella startup ha successo allora è abbastanza comune che i founders o anche i primi impiegati poi qualche anno dopo danno sostanzialmente un regalo monetario a Stanford, si chiama gift. In realtà i regali da parte degli ex adunni che hanno avuto successo dal punto di vista imprenditoriale a Stanford costituiscono una parte molto rilevante del budget di Stanford al punto che c'è proprio un ufficio dedicato a Stanford, ma così come in tutte le università americane, che si occupa delle relazioni con gli alumni. Ad esempio il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha studiato a Stanford e ha fatto una grossa donazione all'università di Stanford completamente scollegata dall'aspetto di IP. Questo è un altro aspetto di monetizzazione che non so quanto sia comune nell'università italiana, ma è prevalente nelle università americane. Non so quale sia il budget di Stanford in termini di royalties che ogni anno riceve per le varie patents che ha, ma non sarei sorpreso se la parte di gifts sia sostanzialmente comparabile alla parte di royalties. Ma velocissimamente, non c'è una struttura centralizzata che sostanzialmente si occupa di mettere a contatto i professori universitari con le aziende. Si basa molto sul, diciamo, referenza e passaparola. Oppure, ad esempio, nel caso delle aziende italiane, il consolato italiano a San Francisco è molto attivo a cercare di mettere a contatto aziende italiane con vari gruppi di ricerca nella Silicon Valley. E io, diciamo, ho incontrato vari appunto imprenditori tramite il consolato italiano. Ma in generale sono, come dicevo, Stanford molto decentralizzata, anche perché comunque Stanford ha un brand molto forte e quindi sono direttamente le aziende che cercano di avere contatti con il mondo universitario. Infatti, la domanda era anche, diciamo, come, diciamo così, trovare soluzioni per evitare di sgomitare, evidentemente, perché immagino che quantomeno su Stanford ci sia una corsa. Sì, quello è vero, però comunque ci sono molti argomenti, quindi poi alla fine, sì. Ci sono tre, quattro canali principali. Alcuni che Paolo ha già discusso, quindi sostanzialmente un canale, forse quello più comune, è quello di avere un progetto condiviso con un professore universitario. E tutti i contratti sono col professore universitario, non con l'università. Cioè, l'università chiaramente negozia e si prende una parte di overhead sul contratto, però di fatto tutta la parte di contrattazione sull'argomento di ricerca è con il professore universitario. Quello è il caso più classico. Un altro modo meno comune, ma comunque relativamente consueto, è quello di fare una cosiddetta donazione al gruppo di ricerca, si chiama GIFT. Ci sono vari motivi per cui uno può o meno voler fare un GIFT, ma sostanzialmente con un GIFT non c'è uno statement of work. Quindi si basa sulla fiducia che il professore universitario fa della ricerca, che è il potenziale interesse per l'azienda. Un altro canale è quello in cui l'azienda manda un suo dipendente all'interno del gruppo di ricerca e quel dipendente per, ad esempio, un anno diventa un ricercatore embedded nel gruppo di ricerca universitario di un professore. Un altro modo ancora è quello di fare la sottoscrizione a cosiddetti vari centri affiliates, che sono abbastanza comuni a Stanford, ma in quasi tutte le università americane, che sono sostanzialmente centri in cui un'azienda paga un affiliation fee e in quel momento può partecipare a seminari irregolari, oppure può avere contatti privilegiati con i vari professori universitari. Dipende dal centro, ma ad esempio nel mio caso il Center for Automotive Leadership a Stanford la fee è abbastanza bassa, di circa 30.000 dollari all'anno e con quello si è accesso sostanzialmente a seminari, a vari updates per quanto riguarda la ricerca all'interno di Stanford. Quindi sostanzialmente c'è un menu che va da engagement che costano abbastanza poco, quindi poco significa sui 20-30.000 dollari all'anno, engagement che sono più costosi, costosi significa 100-120.000 dollari all'anno, che sostanzialmente significa sponsorizzare la borsa di dottorato per uno studente. Però di fatto non direi che si sgomita, sostanzialmente si deve individuare il professore in cui si è interessati e si discute direttamente con lui. O nel caso degli Affiliate Center con il direttore degli Affiliate Center. Però io ripeto, non c'è diciamo una struttura, almeno a Stanford, una struttura centralizzata che si occupa di smistare le domande. E di nuovo, molto centralizzata, molto basata sulla fiducia. Aggiungo una cosa, ma poi devo staccarmi la... Sì, diciamo, è un po' anche qua di base l'idea che le aziende vengono e vedono quali sono i diversi canali di accesso e li pratichano, ma poi il motivo per cui, per esempio, la mia partecipazione dentro 42enne è un po' anche per questo, per fare un po' da bridge, perché siccome è in una direzione, tendenzialmente l'approccio, quindi le start-up che magari non hanno ancora una storia, una esperienza, eccetera, avere qualcuno che li può poi agganciare al sistema universitario può essere utile per quello. A me capita, come tutti qua, alla fine di lavorare e essere affiliato a centri di altre università, Meta Lab at Harvard, nel mio caso per esempio, altre. Quindi è un ecosistema molto dinamico e molto connesso, per cui si cerca di fare bridge in quel senso lì, quindi dall'Italia trovare il modo per poi agganciare il sistema e l'aggancio è in quella direzione lì, quindi devi tu conoscere dei punti di ingresso o che qualcuno te li fa conoscere e poi da lì entrare. Questa è un po' la logica. Ci sono, diciamo, le cose che ci sono calendarizzate, come dicevi, sono più, per esempio, sugli alumni, c'è sempre un evento durante l'anno in cui si richiamano tutti gli alumni che sono alumni, anzi, non facciamo gli inglesi, insomma, comunque gli alumni sono ovviamente una risorsa importante, molti di loro sono attivi in aziende, start-up e li si richiama tutti e si fa, insomma, networking e si avvicina. Quello che c'è a calendario è principalmente dedicato a chi è già stato qua, quindi anche perché poi è più facile che si inneschino delle, come diceva anche Marco, delle iniziative concrete, insomma, non si fa outreach generico a tutte le imprese, insomma, privilegiando sempre comunque il one way verso l'università.